A Sesto San Giovanni si trova un'officina che ogni giorno combatte per mettere a nuovo delle auto. Per fare tutto ciò servono due meccanici, Giorgio e Giuliano. Con loro li seguirà una truppa che rifirmerà ogni loro lavoro. Perché questo è un giorno da meccanico. Oddio, cos'è sta qua? Questa è da ripetere. Non si è già rovinata. Minchia. Cos'è, modello bozzato? Mi piace sulla crema solari quest'estate. Eh, ho notato. Si è scottata, poverino. Si è scottata un po' più in giro, ragazzi. Si è. E' dal porto dentro perché sei grande in attività. No. No, se la fiamo fuori. Sì, va bene. Se non fosse per l'antena con lo scott era perfetto. Si, infatti. Si capisce che è usata dopo. Sono troppogli di... No. 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 Guarda, non c'è neanche bisogno che copri la targa con il computer. Perché è già spuntato il suo, quindi. Non si legge metà. Qualcuno mi dice che l'ha rubata. E' giusto. No. Arrivo. Aspetta, migliotti. Dai che sei. Sì, aspetta. De qua. Dai, vai, vai. Capo, questa è da me. Sì, buona. Categoria old Ma questa cosa è che è successo? L'han devastata Questa passa un filo di corrente Ah quindi è data in corto Firo azzurro capire da dove è partito Ciao spieghiamo ai giovani youtubers come si accende un'auto Con i fili Questa si può fare che ogni singolo filo lo accende quindi senza problema Ma questa forse c'è un vestito E' un'auto Firo e schiette Dov'è un'auto? Dov'è un'auto? Dov'è un'auto? Dov'è un'auto Dov'è un'auto? Zio Zio Ma è morto? Zio Ma c'è dentro? Ah ma non c'è nessuno dentro C'è Lo zio è scappato Qui stavo bussando mezz'ora accesso e non c'era nessuno Ho dovuto guardare con la telecamera per vedere se c'è No no Dì Dì Questa è un'auto Questa è un'auto Dì Un'auto D'icolo Dì Dì